Si è rimesso in moto il progetto della rete di piste ciclabili leggere annunciata la scorsa primavera fra Sant'Edoardo e Sacconago. Tramontata l'idea di affrontare il nodo della viabilità lungo Viale Alfieri, principale asse viario di Sant'Edoardo, si è deciso di andare oltre. Per ora ogni decisione su Viale Alfieri e Pirandello resta sospesa mentre sarà dato mandato di tracciare una ciclabile che si delinei dalla rotonda che interseca Viale Pirandello con Viale Magenta a lungo via Grazia dell'Ebda. Verrà tracciata unitamente a un rialzo del passaggio pedonale per la limitazione della velocità sul solo lato destro e porterà il cavalcavia dove c'è già un tratto di ciclabile protetta per sboccare poi su via Marco Polo. In via Pirandello si dovrà attendere, troppe critiche e troppi intoppi si deciderà in futuro.